La prova dell'arco Posquam abitum endici domi sue intraverat Ut vitam cum alis mendicis ageret Magna cum pazientia procorum inurias ulixestoleravit Dum in proditores penam atrocem parat Parat con il dum c'è un tempo storico come va tradotto Interia Penelopa, Minerva ortatu, mesto vultu et manio ploratu Arcum et faretram immadibus tenens, certamene procis statuit Ut eis, novas nuptias petentibus, responderet Sic dixit, iam diu proci regis rem familiarem profundentes Imea domom ansistis Nunca, vobis hoc certamene propono Si, unus ex vobis, ulixis arcum flexerit Et sagittam per duodecim securium foraminam transmiserit Me uxorem ducet Allora, flexerit, transmiserit, ducet Ricordate la legge dei due futuri Certamen inizium abeat Che cos'è questo abeat? Certamen inizium abeat Penelopa enim sciebat Sciebat è un verbo che regge Ulixis arcum mirum et mirabile A null, omine, nunquam flexum esse Flexum esse, che modo è? Che subordinata è? Andate a cercare il soggetto Preter ab ipso Procitamen Pignoris spe excitati Abbiam visto che cos'è Regine condicionem acceperunt Ut regnum usurparent Abomerum narraturum etiam telemacum Ira motus dal verbo moveo Ob procorum magnum sumptum et eorum oziosam vitam Certare statuisse Quia iss regiam liberare cupiebat Six Ulixis filius promisit Se procos domo sua Pulsurum esse Et matrem solam In regiam In regia Qui tolgo la emme dopo Mansuram esse Ut ec verba audiverunt Omnes riserunt Sed penelopa Statim Illi Certamini Inizium Dedit Quindi illi certamini Va insieme